Pieno di successo per la prima puntata di History 90, Remember Odissea, al D&D Caffè presso il palco commerciale Cargopier di Osimo. Sono tornati in console Fabrizio Fratta, Alvin, Davide e Diego Domenella, Gianni Emmer, Corrado Cori, Mauro del Principe, Bizio XXL, Claudio Ricotti, Paolo Amato, Michi Tortina, Paperino e Gigio Brecciaroli, con tutta la musica della più grande e bella discoteca delle marche degli anni 90. History 90 è un evento firmato 4 quarti e Radio Arancia Network, che tornerà presto ad infiammare l'estate.